Siamo qui per presentarvi le giornate resistenti da 24 al 28 aprile 2013 a Villa Crer Pisani di Biadene di Montebelluna. Anche quest'anno, come ogni anno, più di ogni anno! Un intenso programma culturale a base di musica, arte e spettacolo. Si comincia la sera di mercoledì 24 aprile con lo spettacolo teatrale e l'eclissi della democrazia di Vittorio Agnoletto. A seguire Luca Bassanese in concerto. L'edì 25 aprile pranzo sociale di Cirrasco e dalle 15 la presentazione del libro Immaginare la società della decrescita. Dalle 16 il monologo teatrale Una guerra tutta da reader e a seguire la Poeta Slam. Dopo c'è nei ritmi travolgenti di Aton Tanks e De Spagna Circo Este. Venerdì 26 serata Danzereccio in compagnia di Davide Vettori, Pink Holidays e Management del Dolore Postoperatorio. Sabato 27 è giornata intensa, si comincia nel primo pomeriggio con il workshop Riciclarti sul riciclo artistico. Uè! Alle 17 bella Yocontes con gara di freestyle e bricchie premio e cotidione a seguire DJ7 con tono e gelicella. In serata? Sulla live! Per i live della Macro Beat Records con Gaemon, Mekna, Chiave e Macromarco. La festa si concluderà domenica 28 con due spettacoli teatrali, Invisibili della Pienezza e La Beffa delle Vacche. Per tutto pomeriggio Biblioteca Vivente a tema LGBT e spettacolo di giocoleria. Tutti i giorni bar, pizzeria, installazioni artistiche e mercatini. Giornate? Resistenti! Al 24 Al 28 Aprile 2013 A Villa Collar Pisani Viadere di Montebelluna